Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Tekken per chi ci piglia beh e c'è una cosa che non sapete, questa cosa l'abbiamo già iniziata però per la prima volta il gioco ha crashato misteriosamente durante la selezione così e quindi abbiamo fatto un sacco di gesti inconsulti per far capire nel video oh devi tagliar qui, questa parte non va bella, devi tagliar, via via il video comincia dopo scusate ragazzi, stanno un attimo di goliardia eh perché ce la vuole, battaglia versus e speriamo che non crash stavolta allora pronto che due palle ecco a proposito di palle, sai che peggole peggole sempre nel cuore però in realtà sai che esiste oh dai, selezione ah scusa Yoshimitsu lo so usare un po' eh, perché come tutti quanti gli altri personaggi lo so usare un po' questa volta sono veramente due mosse in croce con Yoshimitsu molto bene stai dicendo per costruire le palle? stavo dicendo che ci sono un sacco di youtuber che eh, stanno un sacco più attenti a quello che dicono durante i video perché c'è eh, il nuovo algoritmo che leva la monetizzazione a un sacco di cose appena dici parolaccio fai cose in consulte o per qualsiasi cosa di vagamente controverso, violento, insomma, una merda purtroppo è così, è accaduto e quindi ci sono un sacco che cominciano a censurare qualsiasi cosa piano anche noi così noi, la merda cazzo sì tanto voglio dire per i 48 centesimi che guadagno mensilmente voglio dire so soldi so soldi so soldi, ragioni e so soldi almeno ci divertiamo non so cosa sto facendo però ti lancio la faccia io ti lancio la faccia porca puttana come capo? non so che cosa ho fatto, non lo so proprio eh, adesso io e io cosa ho fatto? i eh, mi sa che c'è del male oh, finalmente ce l'ho fatta quanta cattiveria già tra l'altro devo dire che ma l'ho già detto altre volte mi sa che è la la forma di Yoshimitsu peggiore che io conosca cioè non mi piace per niente lo sai che ho capito? è la burla di Yoshimitsu? non so cioè? ho capito, è la burla di Yoshimitsu no, è la forma di Yoshimitsu eh, lo so, ma io ho capito non è partito è stato divertente la fregna di mamma è da risa intanto una l'ho vinta intanto una l'ho vinta eh, sì, giusto torniamo alla schermata di selezione personaggio per carità di Dio, Padre, Onnipotente Signore del Cielo e della Terra dai, per carità però un po' prendo fuoco se continuano ah, giusto, è vero tu sei la sverginatrice del canale detta così comunque ti è piaciuto canale? va, scusate oh, Cristo vai, Steve altro che so usare tantissimo proprio ma davvero? oppure mi stai prendendo per l'ano? no, per l'ano? per l'ano visto che dobbiamo essere un po' più censurati questo non vuol dire che dobbiamo farlo apposta voglio dire ah, no ah, no eh, no comunque no ti stavo prendendo per il culo Steve non lo usa ah, ok io comunque non so quando gioco a Tekken regredisco fortissimo ma è una cosa un pochettino comune l'ho visto succedere a tante persone me compreso cazzo perché pronto ah anche basta Shinjioyu osterotipo della femminuccia giappanaisa meravigliosa io c'ho dei problemi si lui c'ha un sacco di problemi allora innanzitutto ascolta un gruppo che tipo fosse per me non esisterebbe sulla terra oh pronto? eh no mi dispiace ah no non mi partiva in realtà oppa non riuscivo a capire è successo pure a me prima no vabbè non faria no che palle ci crolla tutto io questa cosa che non la sa usare manco se il signore scende mi impone le mani il signore è quello che abita al piano di suo proprio ahio le botte che cosa ho fatto schiaffoni io non non so ahio ahia che botta ahia ahia ah non funziona con lb sono con rb eh si ho scoperto una cosa nuova vai alla selezione personaggio seleziona personaggio per carità eeeh si tra l'altro oggi fa di nuovo caldissimo che palle non vedo l'ora che finisca st'estate veramente è stata una cosa magari tipo sto video lo carica a ottobre ti immagini no 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 a breve a breve a breve arrivai col casuale scusate pronto ah niente oggi oggi proprio non ne trovo uno che so usare la larsa è fortissimo eh si qua è fortissimo ciao larsa ciao e non so cosa noi salutiamo random dobbiamo fare il gameplay di noi che salutiamo la gente l'uomo che salutava la gente esatto sto pronto non vedo l'ora di vedere pietro che farà cosa c'è nella mia borsa che poi la borsa ce l'ho quella tracolla così però quella dei finanzii ieri praticamente oh my god allora pronto io Asuka la prima un tempo la si può usare ma allora la mia vita Asuka ha smesso di esistere senti io sto facendo cose che stanno riuscendo non so non so perché ma te l'ho detto che è diventato gigaforte Lars qua pronto oh tipo basta no guarda mezz'aria spiace bababam prova povera Asuka Asuka pronto è bellissimo pronto che non lo so che non lo so io ce l'ho io ce l'ho con la famiglia Kazama mi piace un sacco a me sono un po' quasi tutti sul cazzo dai perché aio no allora aio pronto allora io non so bene cosa cazzo usare se usare l'analogico beccata mi ha fatto male è andato ha fatto male dentro proprio eh sì nell'anima personaggio che non so usare minimamente quindi allora quindi a maggior ragiona e la pancia è la balena sì anche Pinocchio volendo fino no 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 un noto film porno gay sì non tocchiamo quale ok oh beh allora adesso adesso la famiglia mi piace è arrivato davvero quello che volevi scusa io quando usavo il gin il gin tonic davil gin tonic ciao franco davil gin tonic sì salutiamo franco perché davil gin ci fa venire in mente franco sì 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 chissà come mai non so non voglio farvi del male ma combatterò se devo prima o poi lo faranno lo faranno il gin con la faccia di franco sopra penso di sì adesso smetterà di possedere bar e si aprirà una distilleria non so niente io non sto riuscendo a fare cose effettivamente scusato fallendo aglio so ingredible guarda che ho pure tontola che cosa hai fatto non lo so non me lo chiedere perché non mi ho idea in compenso sono una cosa la faccia morire miseramente morto però sai che lo sai che sei carino sì sì anche che sta un po' colorato allora pronto pronto dai che ti so pianto sta succedendo qualcosa no che vacca che sei aia attenzione pensavo di averla scampata invece non si scampa o ca allora schiaffi monumentali allora oh che cosa fa dai ma tu mi fai le cose però pronto io so fare solo quella praticamente abbiamo scoperto allora in realtà pronto su beh beh eh oh se non ti ripari però può poi non puoi aiutami se non ti ripari eh mi sa che mi sono parato panciulla ma che palle no per il rotto della cuffia proprio il rotto della cuffia l'unica cosa che si è rotta non è la cuffia mannaggia santa vabbè andiamo forza andiamo mamma mia ragazzi ogni volta quando faccio le partite durano sette ore eh che bisogna fare questa è la bravura che cacchio devi fare purtroppo uno è bravo è bravo la bravura altrui esatto allora due a duo dove sono ah io sto prendendo tutti i personaggi improbabili veramente tantissimo vabbè ancora non ti è mai capitato la kiklo ma la kiklo c'ha alcune cose che sono veramente fortissime qualcosina saprei anche fare ormai però per esempio cosa questa qua lili lili proprio zero tutta gambe tutta gambe ah quindi è gnocca ciao a tutti ragazzi è stato bello ci vediamo alla prossima puntata basta beviti su te beviti su te beviti su te si grazie si 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 ma perché non stiamo saltando la non lo so però era divertente oh oddio questa ok effettivamente mi sono fatto del malissimo aio tu con le gambette corte panda fa troppo ah 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 carino ah proprio mi hai rotto ma io sono seduta ma perché mi devi rompere le scatole che sta a fede io pronto oh pronto eh non è partito no no niente ma perché sai che la fanciulla mi piace potrei anche io la detesto a parte come nella vita a me le femmine non mi stanno molto simpatiche bam addirittura pronto che cosa fa io non so ti sei parato sicuro chissà di sì oh ma che mi hai rotto il ca ho del caldo eh sì c'è del caldo con l'estremo bravissimo seleziona il personaggio seleziona il personaggio va seleziona il personaggio scusate è che ero un po' questa è la modalità caldo sì che le cuffie non è che aiutano tantissimo no per niente quindi ti immagini lasciamo no tutto il video no 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 per niente allora siamo a 3 a 2 yes vai Paul eh Paul la sfida della vita ah Paul contro lo eh sì lo lo quello vabbè ho detto anche Marcello Marcello no sì sì Marcello è vero c'era giù già scusate un saluto anche a Obi che è il detentore della cattedra di Paul è un saluto a Rinaldo che è il detentore della cattedra di Lo di Lo di Lo pronto perché non io non lo so usare allora io so a memoria tutte quante le mosse di forza di giocacci contro Rinaldo oh eh niente allora puttana vabbè almeno mi sono difeso in qualche maniera eh quanto toglie eh c'è della morte calcetto eh lo so me lo sarei dovuto aspettare il calcetto buffo purtroppo soltanto una cosa mi fa innervosire tantissimo di poi gli suoi capelli io lo odio per questo vacca che cosa non lo so sto facendo cose che sta succedendo i pugnazzi i pugnazzi eh no lo sapevo in realtà l'ho premuto un po' prima che siccome non sapevo oh mamma mia che male eh l'ho premuto un po' prima perché visto che l'ho premuto mamma mia mamma mia cosa sto facendo ah scusa qua vabbè sai che sono veramente scomodi i pad dell'xbox comunque madonna una schifezza questa non l'ho mai vista te lo giuro c'è del male c'è del male puttana eh ha fatto un pochettino di male eh no non ci pensa minimamente puttana guarda per quanto ha vinto sto stronzo oh yes ah giusto siamo un sacco stupido Paul eh sì veramente tra l'altro è stranamente uno dei personaggi più stupidi quando dovrebbe essere il figone quello quello con la giacca di pelle invece no eh no sì abbastanza fortissimo proprio pronto quanto stiamo ok mi sa 4 a 2 stiamo avvicinando al momento della rivalsa oppure del no ce l'ho fatta no perché adesso salutiamo anche Gianluca perché è capitato il signor Katsu esatto ciao Gianluca ci rivediamo su Tekken possibilmente il più tardi possibile così adesso stiamo facendo i tornei la domenica sera al nostro locale di fiducia quindi eh sì eh sì quindi ci manteniamo allenati io invece ho più giocato a Tekken da quando abbiamo registrato no non è vero una volta ho giocato al torneo lì al flow ah comunque guardate Tekken Tag 2 nel cuore in My Heart Forever rispetto a questo eh vabbè effettivamente pronto oh aio 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 eh mi sa che c'è del male eh vabbè sa io vorrei vedere non mi ricordo com'è che si trasformava ah non non me lo chiedere oh Gianluca non mi mande un messaggio come si ah 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 perché vedere tra le mosse è troppo difficile preferisco che Gianluca mi mande un messaggio una settimana dopo esatto ah 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 mi sa che me la sopiata ah 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 ahốt riuscito a colpirti prima che culo ricordati aiuto io te la fico nell'occhio quasi quasi preferivo nel culo nel senso piuttosto che vabbè scusa la matita nel culo vabbè però nell'occhio mi sa che è un po peggio certo la matita fa bene la pelle fa bene i capelli va bene questo potrebbe essere il momento della verità nina la vedo molto male invece un personaggio che ho sempre odiato in tutta la saga di tecnici decisamente che avevo all'epoca un paio di compagni di classe che la sapevano usare maledettamente bene la fatica bestia ma fa malissimo poi mamma mia questi cali incredibili master raven mi piace un zacco sì per fare una battuta sui negli comunque è niente non salutiamo le persone di colore stavo per fare una battuta solo ma così a gratis in realtà perché mi è rivenuto in mente che l'altro giorno stavo in macchina ho visto una panda rossa piena di ragazzi di colore e ho riso fortissimo perché non lo so però mi ha fatto veramente tanto dire che pensavo fosse vuota ma come è siccome già gli interni neri non li vedevo io ho preso non ci posso credere che vacca a tutto sto casì a mi sa tanto che no guarda guarda eh guarda eh eh si vabbè non so cosa sto facendo io vabbè come è sempre tra l'altro no stavolta mediato no cioè è incredibile è incredibile e che cosa da puttana tesoro mi dispiace così ma di che cosa vogliamo parlare non sei ingiornata proprio però sei gnocca nina voglio dire va bene ragazzuoli allora ho vinto di nuovo tesoro quasi bisogno un po di allenamento ecco mi sono capitati tutti i personaggi non so cosa sta dicendo sinceramente mi si è incartato il pensiero nel cervello dalla così è successo esattamente questo io ho molta paura spero non sia contagioso comunque ma non lo so in effetti guardando mio fratello no mi sa che vabbè ok d'accordo ragazzi dai ci salutiamo iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto così vedrete un sacco di altre cose goliardiche buffe e imbecilli tipo questa tipo questa esatto e ci vediamo alla prossima ciao